Ciao romanista tifoso giallorosso. Se sei nuovo qui, per non restare a corto di notizie sull'As Roma in prima persona, corri ad iscriverti subito a questo canale, perché siamo sempre alla ricerca delle ultime notizie sull'As Roma. Il baby Maggarsak all'esame Mourinho, serviranno 700.000 euro per riscattarlo. Non ha ancora esordito con la prima squadra ma la strada di Jordan Maggarsak sembra già tracciata, scrive oggi il romanista. Mercoledì per la gara contro il Bologna ha ricevuto la sua prima convocazione da Mourinho, senza esordire, ma iniziando ad assaggiare l'atmosfera dell'Olimpico. Quando farà segnare il suo debutto, diventerà il quinto calciatore polacco a indossare la maglia romanista in Serie A, certamente il più giovane alla luce dei suoi neanche 19 anni d'età. Maggarsak è un attaccante centrale di fisico, è alto 189 centimetri, e potenza che in patria è visto come una grande promessa e che la Roma ha preso lo scorso settembre in prestito dalla squadra delle riserve dell'Eggia Varsavia al prezzo di 100.000 euro per farlo giocare con la primavera. Corri già e lascia il tuo mi piace su questo video, è molto importante per te continuare a ricevere le ultime notizie dall'As Roma, qui e dove rimani sempre aggiornato, grazie. Continua. Con i giovani giallorossi però ha trovato finora poco spazio, è sceso in campo soltanto in tre gare per 24 o complessivi. Nonostante questo, Mourinho ha deciso di chiamarlo ad allenarsi con la prima squadra il 27 dicembre nella seconda seduta dopo la tournée in Portogallo e ora sembra essere l'ultimo bambino in rampa di lancio. Maggarsak avrà questi mesi per provare a convincere la Roma che varrà la pena trattenerlo a Trigoria, il suo prestito infatti scadrà il prossimo giugno, con il club giallorosso che dovrà versare 700.000 euro per far valere il diritto di riscatto. Ecco, romanista tifoso giallorosso. In questi mesi Jordan Maggarsak riuscirà a convincere la Roma? Qual è il tuo punto di vista su Jordan Maggarsak? Lascia la tua opinione qui nei commenti è molto importante per Las Roma, sappi che tornerò con le ultime notizie da Las Roma tra un momento.